Io non mi sono uccisa perché ero certa che lui fosse certo che lo avrei fatto. Mi chiamo Dora Mari. La donna che piange, questo sono per voi. Tutti conoscono i miei ritratti, che mi dispero che ho la pelle verde, che sono trafitta da spilli, che ho le mani lunghe da uccello e artigli scarlatti, che ho il cranio privo di una parte come se un chirurgo l'avesse asportata. E sì, il chirurgo era lui. Ho migliaia dei ritratti fatti da lui, ma non era me che dipingeva nessuno e Dora nessuno, sono io. Sono tutti Picasso. D'altra parte a nessuno interessa sapere di me, no? Tutti si aspettano solo che io parli di lui, perché lui è stato dentro di me e questo contamina per sempre. Gli uomini, per esempio, gli uomini che ho conosciuto dopo nella vita, questo volevano abitare lo stesso spazio che lui aveva abitato, entrare nel corpo come se fosse una profanazione, una conquista, un trofeo, una forma di cannibalismo del genio, come se potesse esistere un contagio del genio. Picasso non era un uomo, era uno strumento di morte, era una malattia. Lui si nutriva del dolore che provocava negli altri per alimentare il suo, perché l'arte nasce dalle ferite. Se non ti bastano le tue devi provocarne altre, mi diceva. Questo chiedeva alle donne. Non abbiate paura di morire combattendomi. Se mi uccidete sarete nella gloria, entrerete nella storia, avrete per tutti e per sempre eliminato me che sono il mostro. e nessuna gli ha sopravvissuta, ma nessuna gli ha dato la sofferenza che lui voleva, mai abbastanza, mai tutta intera. Io credo più di tutte, ma non è affatto un merito e non è nemmeno una consolazione, semplicemente è andata così. Ogni tanto, ogni tanto tornava da me. Tornava per vedere se fossi impazzita, morta di solitudine e di miseria. Se per caso il suo abbandono mi avesse dato nuova forza per offenderlo e così fargli dipingere una nuova tela, immaginare sul mio dolore il suo prossimo capolavoro. Però no, invece, no. Il mio perdono sarà il tuo castigo, gli dissi l'ultima volta. Tu sei la mia sventura e io te la lascio. E così successe che un giorno ci conoscemmo al bar. Io giocavo con un coltello, giocavo a piantarlo nel tavolo di legno tra le dita inguantate della mano sinistra e mi sono tagliata. Guanti bianchi, sangue rosso. Picasso sentiva l'odore del sangue da lontano, lui lo ha sempre fatto con le bestie alla corrida con le donne, con gli uomini, nei luoghi di sventura. Il sentore del sangue lo accendeva. Lui era ipnotizzato dal sangue. Io non mi ricordo di averlo sentito arrivare alle mie spalle. Ma io continuavo a giocare col coltello e continuavo a tagliarmi perché non era interessante, non era abbastanza potente che ci fosse qualcuno dietro di me. Potente era il mio dolore. E lui a un certo punto mi disse, vamos, andiamo. Aveva una voce buia. Quella non era una domanda, era una cosa già successa. Non era un ordine, era un destino. Io allora ho alzato la testa e per la prima volta ho incrociato i suoi occhi. Gli ho detto, dove? Andiamo dove? E lui mi ha risposto, in qualche lugar, signorita, spero che sia dentro di usted. Verrò in qualunque posto, purché sia dentro di lei. E qualcosa dentro di lui mi ha odiata, fin da quella prima notte, sto giocandolo però. Non mi mires, mi diceva, non guardarmi. Cierra gli occhi e non mires. Tos occhi mi ven e mi dann miedo. Picasso non puoi tener miedo, Picasso fa miedo. Non ti doi miedo, nina. Non ti faccio paura. Non sei che tienne las flore, io ronano las flore del campo santo. Non sei che tiene las flore, io ronano las flores del campo santo che quando las mueve il viento llorona parece che sta llorando che quando las mueve il viento llorona parece che sta llorando oh vai de mi llorona 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 de un campo libre non mi ha mai chiamata per nome Dora mi chiamava bambina o ragazza ma nemmeno io lo chiamavo per nome mai Pablo o Paul un giorno forse l'ho rifatto se fossimo diventati vecchi insieme se avessimo deposto le armi ma non è stato possibile si, aveva un'altra donna lo so Marie-Thérèse lei era bionda e morbida era fatta di burro docile era silenziosa gli ha dato una figlia Maya io andavo sotto casa loro e restavo lì a guardare la finestra le luci e le ombre li pensavo insieme stavo con loro stavo dentro ma lui questo non l'ha mai saputo lui non aveva proprio la fantasia accogliente per pensare a una cosa del genere lui non pensava fuori di sé pensava solo dentro di sé e però aveva paura del buio una notte mi disse tu tu sei stata per me la più utile disse proprio questo utile nunca conoscì alguien come tu eres todo lo che si puede desear eres un perro un ratón un pájaro eres una idea che passa e si va eres una tormenta sei un cane un topo un uccello un'idea una tempesta sei l'ideale da avere accanto quando uno si innamora diventi qualunque cosa per lui l'ideale da avere accanto parlava di sé non di me come sempre ero l'ideale per lui ero arrivata al momento opportuno proprio quando lui aveva bisogno e desiderio di innamorarsi e allora eccomi ma che fortuna eccomi adatta al suo bisogno la più utile e poi mi ha detto negli anni della sua breve e della mia infinita solitudine ya no existes ya eres un ricordo sei soltanto un ricordo però tornava tornava sempre denigrava il mio lavoro quando veniva entrava nel mio studio si metteva con le braccia sui fianchi così davanti alla mia tela e mi diceva uff demasiado tratto parola di firnada troppi segni per non dire niente oppure diceva vedo dai tuoi quadri che sei molto stanca non stai bene e rideva e poi un giorno arrivò Françoise la sua nuova giovane bellissima donna esibiva la gravidanza come se fosse un trofeo Françoise non ha mai saputo niente di lui lei si limitava a essere gravida spingeva fuori questa pancia come se fosse l'ultimo capolavoro di Picasso io non ho avuto figli non potevo averne e Picasso non ha fatto altro che figli non so quanti ne ha avuti ma nemmeno lui lo sa io ero la sua donna sterile il luogo dove si getta il seme e non fiorisce ebbi molta paura in quei mesi mi ricordo poco mi presero mi portarono in una clinica ma è un ospedale mi trovavano dissero debole di nervi malata di mente l'elettroshock l'elettroshock è come tornare vivi per sorpresa è un dolore certo ma è anche un sollievo è come un volo mi curava Lacan oh Lacan aveva 40 anni ed era bello era sicuro del suo sapere mi disse mi avrebbe guarita lo promise il tuo sangue Teodora non mi interessa non ti tagliare perché il tuo sangue non mi riguarda lui mi chiamava per nome infatti il mio nome è Teodora e così andai a vivere da lui perché anche lui voleva passare da dove Picasso era passato e portai con me la gatta che mi aveva regalato il maestro i gatti non mi sono mai piaciuti e Picasso lo sapeva ma i miei gusti non avevano nessuna importanza per lui lui desiderava vedermi con una gatta lui la pensava nel suo quadro si chiamava Mumun io la detestavo ma mi dispianque poi quando morì che in fondo era viva e la vita ha un pregio sempre per molti anni ho pensato che ci fossimo incontrati in un tempo malato un tempo che non era stato il nostro tempo che avessimo mancato il vero luogo del nostro amore che c'era l'amore c'era stato ma noi l'avevamo senza saperlo disertato è stato un disincontro un desenquentro hai mai detto le parole giuste io tante volte ma le avrei cambiate tutte non mi resta chiamare così sotto voce je te regarde moi je sais déjà que ce sera un bon souvenir ti parlo nella testa mi parli nella testa ti parli mi parli nella testa mi dipingeva come una sfinge mi diceva che ero grave misteriosa dura commovente non sei chi è nera signa non sei perché resta lì diceva mentre ridevamo nel letto ma non ero addolorata io ridevo eres una virgen desesperata para me para ti sei una virgine disperata per me per te per le sorti dell'umanità è venuta ora che io smetta di parlare di lui si è venuta ora io mi chiamo Teodora e vi ringrazio di avermi prestato attenzione sono un po' stanca è stata una vita lunga un secolo ora posso andare bisce non ha spitt bisciuta 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 bisciuta